Ciao a tutti carissimi amici di youtube e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist eccoci ritornati sulla serie GX sulla storia un duelle dimensionale quindi Jesse contro Zain Trusley andiamo avanti con la storia perfetto ragazzi spero che adesso Jesse 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 come si chiama abbia il deck in cui ci sono in cui c'è la carta drago arcobaleno tanto atteso e tanto cercato quindi vediamo insieme questo duelle come andrà a finire Zain Trusley sappiamo che il suo deck non è tanto tanto facile è anche un deck molto potente ok ragazzi proveremo per la seconda volta vediamo se il deck di Jesse aiuterà a sconfiggere Zain Trusley perché non è stato mica facile però adesso non so se ha il deck cioè non so se ha quella carta drago arcobaleno nel suo deck perché se non ce l'ha è difficile distruggerlo eh finalmente se c'è delle carte magia a me è un po' più utile rispetto al primo la vedete oh non è manica ma anche sei e vabbè leggo, giusto, tranta, sei solo che è diverso ah diverso no no chiudi la porta amore attiva solo quando un mostro di avversario ti chiede un attacco puoi uscire un'antica cittadina e coprire la tua tecchia e attivarla bene 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 ultima spiaggia interessante mettiamola lì e concludiamo il turno ok lui ha evocato subito il sabio drago evocato drago cacciatore e già due mostri abbastanza potenti lo attiriamo subito l'ultima spiaggia così da poter mettere subito la carta magia antica città ok oh è usato un po' l'imilizzazione ragazzi se qua fare una superfusione cosa è evocato ah drago supremo al cybertec prima era tec io potrei già farti fuori e già fare qualcosina eh evocato spiaggia il nostro sistema di tecchia ok lo facciamo così noi evocheremo il nostro gattino in posizione di difesa e aspetteremo il prossimo turno così potremmo attivare buco nero ok perfetto ok meglio così cos'è questo attiviamo subito buco nero perfetto attiviamo subito tentazione cristallo così possiamo evocare la tigre ma si dai la tigre in posizione di attacco perfetto poi evochiamo bestia cristallo mammut ambra e iniziamo l'attacco ragazzi quindi 1600 punti li togliamo al più 1700 meglio di così non poteva andare perfetto dai ragazzi forse rispetto al duello di prima rinuncieremo il duello eh drago infernale e non mi attacca allora scelgo 1x6 fino a 2 mostri per sfistare al 2000 per te quello ok qua non si può ancora attivare mannaggia non posso fare niente 156 ok posso attaccare dai così arriva tu via e si distruggia anche il mio tigreto pazio ma il mammut ambra infliggialt 2700 life points ok stiamo andando bene carita graziosa attiviamo l'effetto di antica città così annulliamo l'effetto della carta va bene ci sta ci sta così evitiamo di farlo pescare perfetto valore raro lo attiviamo subito per schiamare tutte le carte no proprio rubino adesso che mi serve una carta per evocare vabbè mettiamo questa carta ok 1 ma solo 1 oggi ok non ci sono mai perfetto poi mettiamo bestia di cristallo carbuncle e rubino e concludiamo il turno dai distruggimi la carta coperta così si è vero perfetto dai 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 ok certo si tratta l'effetto così rimane lì ok adesso attiviamo subito l'antica città rovina del fobaleno ora è sta registrando ed evochiamo subito come si può fare che non si può fare ah mannaggia non si può fare cos'è questo manda 4 carte bestia di cristallo dalla tua zona quarta energia e trappola al cimitero manda tutte le carte sotto il reno al cimitero poi con specialmente al tuo cimitero tante mosse bestia di cristallo quanto possibile fino al numero delle carte e contratto del tuo avversario mandata al cimitero per l'effetto di questa carta ok non è male hai come è mossa pure quindi lo attiviamo subito ok così possiamo evocare il mammut e la tigre perfetto in posizione di attacco logicamente e voilà possiamo evocare un altro mostro quindi possiamo evocare il gattino la tartaruga mettiamo la tartaruga in posizione di peso dai ok ragazzi attacchiamo subito 1700 life points e più 1600 abbiamo sconvitto Zane Truster ragazzi per la seconda volta e siamo riusciti a batterlo meno male peccato che non abbiamo utilizzato il deck cioè il deck il mostro Dragon Ballena però non so neanche se ci sia comunque nella storia c'è il Dragon Ballena però non ho capito se ce l'ha o no ormai ci siamo quasi ragazzi come vedete Jayden Yugi contro un tizio piccoletto che non so chi sia poi Jayden Yugi contro Jesse che sicuramente avrà la carta Dragon Ballena e poi Jayden contro Uber mamma mia che scontro vabbè ragazzi spero sempre che questo video di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel se vi sia piaciuto mi raccomando lasciatemi tanti commenti e non ci vediamo nel prossimo video facendo la storia scatenando il drago va bene ciao ciao